Sul cinema, come diceva Tornatore, abbiamo ascoltato, penso che ci saranno novità, è molto interessante che se ne parli, non sono argomenti di solito di attualità e quindi è bello che ci sia un'attualità sul cinema. Per esempio una? Non possiamo anticipare niente. Ma c'è una volontà di portare avanti questa legge? Abbiamo avuto la sensazione che ci fosse una volontà importante, molto forte, di dare uno sprint alla cultura italiana e quindi anche al cinema, ma non solo al cinema. Dopo 50 anni ci sarà una nuova legge? Questa è la sensazione che abbiamo avuto. Un modello straniero di riferimento, come il cinema francese? Un po' il cinema francese, ma non solo quello. Non ci è sembrato che si stia procedendo per copia e incolla. Un incontro bellissimo, abbiamo parlato dell'arte, della cultura, delle grandezze dell'Italia, per un programma non di rilancio perché non c'è bisogno di rilanciare, ma dei progetti. Ecco, ora mi vedo, non so come fare. Forse è meglio, rifaccio tutto senso che. Allora ci siamo incontrati per un programma. Molto piacere. Come non ho capito la storia dei capitolini, delle statue coperte. E abbiamo, ci ha fatto venire a Palazzo Chigi per discutere proprio di questo problema, sulle statue coperte.